Letizia di appena 10 anni e la sua mamma di 51, Marzanna, vennero uccise travolte da un'auto alla cui guida c'era una persona ubriaca. Ormai 4 anni e mezzo fa ci troviamo nel pieno centro abitato di Salleo, una vicenda che scosse profondamente la città di Arezzo. L'uomo che le uccise appunto con la sua auto adesso è libero. Alex Danut, rumeno di 50 anni, da oltre 20 anni ad Arezzo si era messo ubriaco alla guida e nella minicarra c'erano altre persone con lui. Quando l'auto raggiunse il centro abitato di Salleo e le porte di Arezzo la velocità era tale che il veicolo invase il marciapiede dove si trovavano Letizia e la mamma Marzanna. Vennero travolte in pieno per loro, nonostante l'intervento del 118 non ci fu nulla da fare, il rumeno venne trasportato in carcere la sera stessa. In primo grado, Corrito abbreviato, venne condannato dal GIP per Giorgio Ponticelli a 9 anni e 2 mesi per duplice omicidio colposo aggravato. Nel 2017 in appello la condanna venne ridotta a 5 anni e 2 mesi. L'uomo ha visto adesso ulteriormente ridursi la pena per lo sconto della buona condotta, 45 giorni ogni 6 mesi. In aula era stata stabilita anche la sua espulsione, la scelta adesso spetterà al magistrato di sorveglianza di Firenze una decisione contro la quale potrebbe essere presentata opposizione. La vicenda che scosse profondamente l'intera città di Arezzo avvenne a soli due mesi dall'entrata in vigore dell'attuale legge sull'omicidio stradale che ha fortemente inasprito le pene per fatti di questo genere. Al padre di Letizia, Luca Fiacchini, che ovviamente abbiamo provato a sentire ma si è rifiutato di parlare di fronte ai nostri microfoni, rimangono soltanto alcune parole. Ha infatti affidato ad un messaggio i suoi sentimenti, ve lo leggiamo testualmente. Mi sto rifacendo una vita, porterò per sempre con me il mio grande dolore e non mi aspetto più nulla dalla giustizia italiana.